L'incidente mortale della settimana scorsa in cui ha perso la vita un 23enne di Valcanneto in sella alla sua moto, ha riportato al centro del dibattito la sicurezza nel tratto della via Aurelia tra Cerveteri e Torre in Pietra, privo di barriere e sparti traffico. Negli ultimi anni, nei 10 km di Aurelia, hanno perso la vita numerose persone, molte delle quali giovani. Mancano delle barriere e sparti traffico sulle quali c'era in atto un progetto, dice Giovanni Ardita, ex consigliere comunale di Ladispoli, il quale da anni porta avanti questa battaglia. Se assistiamo a degli episodi di incidenti stradali da Ladispoli a Roma, notiamo che i sinistri avvengono fino a Torre in Pietra dal momento che di lì in poi ci sono le barriere in sicurezza, afferma Ardita. Dobbiamo fare la voce grossa a chi è preposto alla manutenzione della via Aurelia, ma deve esserci unione tra i comuni di Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli, altrimenti, conclude Ardita, tra qualche mese sentiremo parlare di vittime in questo tratto di strada maledetto.